Benvenuti a tutti voi, io sono Giustino Mezzalira, lavoro a Veneto Agricoltura e come avete visto dal programma che avete consultato prima di decidere di venire qui ho l'onore di aprire questa giornata, poi mi hanno aggiunto un altro onere e mi hanno chiesto anche di coordinarla quindi non è per mio presenzialismo, è solo per spirito di servizio che cercherò di dare un po' la regia e di tenere un po' le fila della giornata di oggi visto che come nel programma abbiamo mostrato ci sono molti temi, molti temi estremamente interessanti che hanno lo scopo fondamentale di permetterci di discutere intorno ad un'idea, l'hanno detto già gli amministratori locali che hanno aperto i due sindaci che hanno aperto i lavori, questa è una conferenza di preparazione, è una giornata di studio un workshop sostanzialmente dove vengono portate tutta una serie di tesi, di conoscenze, di dati di conoscenza però l'obiettivo è già molto chiaro, non è che finita la chiacchierata di oggi noi usciamo da qui più o meno arricchiti, magari qualcuno che ha cambiato una sua idea qualcuno che è venuto qui per esporre anche le sue opinioni magari divergenti rispetto a quelle che vengono esposte tutti noi quando usciamo di qui sappiamo che abbiamo fatto il primo passo, anzi forse il secondo di un percorso molto lungo, perché il primo passo l'hanno fatto questi amministratori che hanno avuto il coraggio di, pur piccola amministrazione, un territorio super frastagliato interessato da tantissimi tipi di interessi, hanno avuto il coraggio di posare, pensare che loro potrebbero essere un territorio pilota, non a scala vicentina, veneta, italiana, a scala europea per un tema, intorno a un tema sul quale non è un'europea, gli stati, le comunità locali si stanno interrogando con enorme forza, cioè quello di dare una risposta a come di fronte a un cambiamento climatico che ormai non ha più bisogno di essere presentato da nessuno se mai si può solo che discuterlo, noi possiamo adeguarci, rispondere, prevenire per quello che possiamo fare nella prevenzione e poi comunque adattarci a qualcosa che è una terra incognita perché tutto quello che conoscevamo, che è la nostra memoria singola, collettiva, tecnica, scientifica vale, ma non ci dà più quelle certezze che, faccio l'esempio dell'ingegnere idraulico che deve calcolare la sezione di un corso d'acqua, prende i dati degli ultimi cento anni si dà un certo obiettivo, un tempo di ritorno di un certo evento e produce una sezione idraulica che dovrebbe trasportare una portata. Tutto questo vale, ovviamente, ma non è più deterministico ci aiuta a dare un indirizzo di fronte a qualcosa che sappiamo solo avere una certezza che sarà diverso da quello che abbiamo visto nel passato. Allora di fronte a certi aspetti angoscianti, questioni che il cambiamento climatico ci pone, ogni comunità è chiamata in gioco ecco, do subito un'anticipazione di quello che poi sarà anche brevemente la mia introduzione questo progetto che assieme abbiamo iniziato a costruire e che oggi fa il secondo passo dopo una concertazione tra enti e istituzioni, si confronta con i cittadini, si confronta con i diversi portatori di interesse, si confronta con le diverse competenze io conosco molti di voi oggi in sala e so che c'è una platea interessantissima per quanto riguarda le competenze. Ecco, questo secondo passo ci porta verso il diritto inizioso di vincere alla prossima call del programma Life il programma Life 1420 è già partito, ha già fatto la prima call l'anno scorso siamo alla seconda, ci sono importanti risorse, sono difficili da raggiungere, da vincere non sono risorse facili, non sono risorse dove ti serve il santo, il paradiso una giacchetta da tirare, un amico da qualche parte serve a niente e se qualcuno ce l'ha ce lo viene a dire, gli diciamo grazie sappiamo che invece su questi progetti in Europa si dice con l'eccellenza quindi o costruiamo un progetto straordinario e qui ci sono tutti gli elementi per poterlo fare o stiamo perdendo solo il nostro tempo. Ecco quindi questo è lo scopo della giornata di oggi quindi nessuno di voi è attore passivo che sta dall'altra parte, voi oggi ascolterete fondamentalmente ma sappiate che da oggi ciascuno di voi può dare un contributo e non lo sto dicendo così in modo retorico, lo sto dicendo perché è lo scopo di questo convegno di aprire un'idea a quante più persone possibili e tutti quelli che alla fine vorranno dire ci sto, mi metto in gioco, poi avranno qualcosa da fare all'interno di questo progetto. Bene, detto questo, se mi lasciate inforcare gli occhiali, trovare la mia presentazione e aprirla su un pc che non conosco, spero di metterci dieci secondi così dopo seguo anch'io la mia scaletta e rispetto i miei tempi. Bene, allora, come vi dicevo a me è stato chiesto di introdurre il tema e cercare di metterci e di scaldarci un pochino tutti su questa idea che il tema della sicurezza idraulica non è solo un tema che noi deleghiamo ai competenti, alle strutture, alle amministrazioni, ai tecnici dei geni civili dei consorzi di bonifica, alle strutture della regione, allo Stato, eccetera, eccetera il tema della sicurezza idraulica riguarda ciascuno di noi come potenziali danneggiati e riguarda ciascuno di noi come potenziali danneggiatori quindi ciascuno di noi può fare delle cose grandi, piccole, piccolissime più o meno importanti. Ecco, la mia chiacchierata vi accompagna in una ventina di minuti, così, aprendo dei flash, dando delle informazioni come sempre, tutte le informazioni vengono modificate da chi le dà e quindi lo stesso dato, numero, per quanto sia oggettivo, poi riceve un'interpretazione e quindi mi scusate se queste, se poi riceverete da me adesso anche le mie interpretazioni, quindi non c'è nulla di assoluto qui come nessun'altra cosa e allora, visto che ci stiamo occupando di un'azione, di partecipazione come se fosse un po' quello che stanno facendo gli enti locali con i PAES per quanto riguarda la transizione alle fonti rinnovabili, l'efficientamento energetico ecco, immaginate che stiamo ragionando di una specie di PAES della difesa idraulica di quello che ciascuno di noi, famiglia, industria, amministrazione locale, ente gestore eccetera eccetera, può fare per dare un piccolo contributo però noi sappiamo che ci occupiamo adesso di questo tema che è diventato molto rilevante perché negli ultimi anni ci siamo accorti che sta cambiando qualcosa di veramente drammatico nel modo in cui piove e nel modo in cui poi una precipitazione si trasforma in deflusso da un determinato bacino in portata di un determinato corso d'acqua e allora il primo dato è questo, che negli ultimi cento anni circa o più di cento anni, quello che vedete qui questo è un grafico tra i tanti che parlano dell'andamento delle temperature sul nostro pianeta tra il 1870 e il 2005, questa è la temperatura media della superficie del mare nella zona tropicale, ecco, ci dice che negli ultimi cento anni c'è stato un aumento un po' meno di un grado e vediamo però che l'andamento non è un andamento ciclico come molti altri fenomeni del nostro pianeta è un andamento che mostra che a un certo momento c'è un oliato guardate gli ultimi vent'anni ecco, e vediamo che c'è un'impennata improvvisa nella temperatura ecco, tutti noi siamo coscienti ormai da molti anni perché sono almeno vent'anni dal 1992 la conferenza di Rio che l'umanità si è posta al problema e ha preso delle decisioni c'è una convenzione importante del 92 delle Nazioni Unite quindi vuol dire che il problema ha una lunga storia semmai negli ultimi vent'anni la domanda non è stata tanto la discussione non è stata tanto intorno al tema c'è o non c'è il cambiamento climatico ma se il cambiamento climatico è o no il tipo antropogenico cioè siamo noi gli attori di quello che sta succedendo o è una delle tante cose che il nostro pianeta che non ha mai vissuto un periodo uguale a quello precedente sta facendo per conto suo e qui vedete la copertina di un famosissimo documentario prodotto dal vicepresidente degli Stati Uniti al Gore una verità scomoda ovviamente Gore dava la sua interpretazione diceva che era una verità per quanto sia scomoda cioè che la colpa è nostra sono questi 50 miliardi di tonnellate di CO2 che emettiamo con tutte le nostre attività in modo diretto con le combustioni in modo indiretto con la deforestazione con il cambio dell'uso del suolo eccetera ma la verità sconveniente è questa siamo noi ora negli ultimi anni questa che era una tesi che veniva sostenuta di modo molto dubitativo all'inizio poi sempre più rafforzata dai dati è diventata quasi certezza l'international panel, un climate change, l'IPCC questo super organismo di consultazione delle Nazioni Unite nell'ultimo rapporto dice ormai è certo che siamo noi gli attori di quello che stiamo vedendo attorno a noi e quindi visto che dipende principalmente da noi quello che sta succedendo dobbiamo porci moralmente la domanda di cosa possiamo fare per fare in modo che questo cambiamento della temperatura media del nostro pianeta resti entro un range che permette di non mandare il sistema fuori controllo e chi di voi segue queste cose sa che questa soglia che non dovremmo superare all'interno di questo secolo è più 2 gradi centigradi rispetto alle temperature che conoscevamo fino all'inizio di quel guizzo verso l'alto che abbiamo visto uno dirà ma in fondo cosa sono quei grandi centigradi vanno fuori stasera un po' più caldo ieri mattina un po' più freddo sì, più 2, più 5, meno 5 è una sciocchezza però è sempre utile magari fare questo piccolo parallelo anche noi siamo un sistema molto complesso come la biosfera e noi siamo all'interno del nostro corpo la temperatura è regolata in modo finissimo da sistemi estremamente complessi come sul nostro pianeta e noi il nostro optimum che pur varia con il ritmo circadiano si abbassa, si aumenta però abbiamo chiaro in testa che cos'è il concetto di febbre hai una leggera febbrecina hai una febbre, hai una febbre forte hai una febbre a cavallo si diceva una volta sei morto qualcuno di noi in questi giorni ha vissuto l'esperienza di un'influenza quella stagionale che porta febbre anche significative 39 beh, su più 2 rispetto a quello che potrebbe essere appena appena un'alterazione della nostra temperatura con altri due gradi che portano già in ospedale tranquillamente ecco, allora il paradosso il parallelo, scusatemi è esattamente questo cioè noi dobbiamo far di tutto perché questo è l'obiettivo che con grandissima fatica stiamo cercando di darci come umanità perché questo fenomeno indotto dalle nostre attività resti dentro un range che non manda il sistema fuori controllo però oggi non parliamo di questo oggi stiamo parlando di uno dei tanti effetti che cominciano a manifestarsi a causa di questo cambiare della temperatura media del nostro pianeta e potremmo diciamo in modo molto semplicistico dire che noi abbiamo avuto la fortuna di nascere in un optimum climatico non a caso ci siamo evoluti velocemente su questo pianeta in questa fase proprio perché il nostro pianeta sta passando un momento molto favorevole ecco tutto quello che verrà spostato in su e in giù rispetto a tutta una serie di parametri porterà il sistema a essere un po' più scomodo di come l'abbiamo trovato ed è così per esempio per quanto riguarda le precipitazioni e oggi noi invece parliamo di uno dei tanti temi che il cambiamento climatico induce di fronte al cambiamento climatico anche qui chiede un po' del mestiere sa che ci dobbiamo occupare sostanzialmente di due grandi temi da un lato tutto ciò che afferisce la cosiddetta mitigazione quindi tutto quello che noi possiamo fare per opporci all'aumento delle emissioni e quindi benissimo tutto il discorso del risparmio energetico dell'uso delle fonti che sono neutrali nei confronti delle emissioni di gas ad effetto serra eccetera eccetera ma io vengo dal settore primario sono un dottore forestale benissimo tutto quello che possiamo fare per avere più alberi che immagazzinano CO2 eccetera eccetera bene questo afferisce al grande tema della cosiddetta mitigazione però poi che ci piace o non ci piace l'inerzia che abbiamo impresso al sistema negli ultimi 200 anni dalla rivoluzione industriale in poi è tale che comunque un cambiamento climatico significativo è stato innescato e ci accompagnerà per generazioni sicuramente per molte generazioni e quindi noi dobbiamo comunque adattarci al cambiamento prima cominciamo a pensarci meglio è ecco tutto il tema intorno al quale gravita il progetto si riunisce oggi riguarda questo secondo aspetto cioè soprattutto quello che noi potremmo fare per adattare i nostri sistemi a un fenomeno indotto dal cambiamento climatico che è quello dell'incremento della frequenza dei fenomeni di tipo alluvionale quindi l'aumento del rischio che le nostre abitazioni le nostre infrastrutture le nostre fabbriche i nostri centri commerciali le nostre città quasi tutte lungo fiumi eccetera eccetera vengano impattate come purtroppo abbiamo visto noi vicentini noi veneti noi italiani in modo sempre più massiccio negli ultimi anni ecco in particolare qui siamo a Sant'Orso siamo in un paese della piede montana dell'alta pianura qui sopra della fascia delle risorgive un'area che è fragile per quanto riguarda lo sbocco delle valli ma che non è magari così fortemente a rischio quando si tratta invece di essere alluvionati dall'acqua che non ci sta più all'interno degli argini ma l'immagine che vedete invece è una tipica immagine simbolo del nostro territorio vediamo la villa la rotonda con dietro un paesaggio di pianura lì in mezzo c'è il fiume Bacchiglione che in questo momento non trovando spazio migliore ha esondato un vasto territorio ecco chi di voi so che sono persone importanti qui oggi lavora presente all'interno dei consorzi di bonifica o dei geni civili sa quanto il territorio veneto sia un territorio ad elevato rischio idrogeologico sappiamo che lo siamo per tanti aspetti del rischio idrogeologico tra cui quello di essere alluvionato ecco e questo rischio che con il quale già abbiamo convissuto negli ultimi anni è aumentato perché è facile e intuitivo il rischio ha due componenti la prima componente è quella della frequenza con cui un danno un fenomeno che può produrre un danno si manifesta e la seconda componente è data dall'entità del danno che può essere prodotto da quell'evento allora se in un territorio come il territorio vicentino per quanto riguarda i due fattori entrambi sono in aumento perché uno è legato al modo diverso in cui le precipitazioni si manifestano e l'altro è legato al fatto che noi nel nostro territorio negli ultimi diciamo 50 anni tanto per darci uno spazio temporale abbiamo trasformato in modo radicale l'uso del suolo io ho lavorato qualche anno fa con l'Accademia Olimpica di Vicenza di un'analisi storica di quello che è stato il consumo del suolo nella provincia di Vicenza e abbiamo visto che negli ultimi 50 anni abbiamo moltiplicato per 5 la superficie impermeabilizzata dall'inizio della storia ad oggi quindi nel dopoguerra dove c'era un entero impermeabilizzato 50 anni dopo ce ne erano 5 che un uso del suolo è un'evoluzione dell'uso del suolo assolutamente straordinaria un numero che allora mi aveva fatto impressione era che praticamente allo scoccare della mezzanotte di ogni giorno nel solo territorio vicentino c'era un entero di terreno in meno agricolo forestale e c'era un entero di terreno in più trasformato in strade case capannoni piazzali centri commerciali eccetera facendo una semplice estrapolazione in 84 anni da quel giorno avremmo finito di impermeabilizzare l'interno vicentino 84 anni è l'età di un uomo che vive una vita in metodo lunga insomma capite che questa è una cosa extraordinaria se per di più il modello insediativo è stato poi quello nostro veneto cioè del policentrismo della città diffusa quello che qualcuno ha chiamato un sistema agropolitano dove l'agricoltura diventa addirittura interstiziale in una specie di città infinita l'impatto di quella di quella di quella moltiplicazione che avete visto diventa molto molto più grande ecco dall'altra parte c'è un altro fenomeno che magari non ricordiamo sempre bene ed è il fatto che l'aumento della vulnerabilità del territorio è dovuto al fatto anche è dovuto a un secondo fattore ed è l'abbandono altrettanto rapido altrettanto imponente storico che è avvenuto dei territori montani dove un'agricoltura che per secoli aveva ordinato lo scolo delle acque che ha razzato i versanti ha recimato le acque all'improvviso ha deciso che non gli serviva più estesissime superfici il bosco si è ripreso tutto il bosco nel lungo periodo migliora una serie di parametri idraulici ma nel breve periodo purtroppo tra l'abbandono e i primi decenni che lo seguono di solito questo ci arriverà meglio poi per il suo nello stile immagino peggiora tutta una serie di fenomeni quelli per esempio microfrane ostruzione di trasporto solido ostruzione di piccoli di cossi d'acqua e tutti quei fenomeni che poi danno quella vulnerabilità fortissima che ben conosciamo ecco allora di fronte a questo aumento del rischio delle alluvioni si possono e qui scusatemi l'estremo semplicismo con cui vi parlo si possono adottare sostanzialmente due soluzioni la prima che io ho sintetizzato nella frase ci pensa lo Stato è quello di dire boh a valle appena è possibile prendo delle belle campagne faccio delle casse di espansione e salvo di città quello che stiamo facendo qui da noi è Caldonio cassa di espansione sul Timonchio per salvare il nodo idraulico di Vicenza dalle alluvioni come quella del 2010 e tutti gli altri rischi che sono stati corsi solo nei due o tre anni successivi ecco questa è la logica ci pensa lo Stato ovviamente c'è un'altra logica ci pensiamo tutti noi ed è la logica della mitigazione diffusa dei microbaccini di laminazione dell'uso dei terreni agricoli come aree di eventuale alluvionamento programmato assieme ai consorzi alle associazioni degli agricoltori ma dei mille interventi che possiamo fare su ciascuna pezzo di superficie per permettere che l'acqua torni ad infiltrarsi che rallenti eccetera eccetera ecco la seconda immagine che vi ho fatto vedere per esempio è uno studio che è stato fatto nel 2008 per la città di Mestre che aveva subito un alluvione dell'anno 2007 e anche lì si era detto una città che qui sta molto diffusa sparpagliata sul territorio come l'Interland Mestrino come avremmo potuto usare tutti i piccoli spazi per raccordare corsi d'acqua eccetera prima che ad andare sotto all'acqua sia nei quartieri le aree commerciali le aree produttive ecco e questo modo di affrontare il il tema è quello che appunto mette in gioco la responsabilità di ciascuno di noi ed è su questa idea che abbiamo intenzione ci siamo parlati tra diversi soggetti con diverse anche culture tecniche eccetera e abbiamo deciso di presentarci alla commissione con un'idea un'idea che prenderà alcuni territori pilota e all'interno di questi territori interagirà direttamente con tutte le categorie coloro che sono insediati gli abitanti le attività produttive quelle agricole quelle artigianali e quelle industriali ed è proprio per questo che mi fa molto piacere di vedere oggi una sala così piena sapendo che il partenariato c'è già tutto oggi praticamente ecco allora brevissimamente noi distribuiamo tre principali categorie di attori una è quella dei proprietari di immobili privati o pubblici abitanti proprietari di una casa proprietari di un capannone il comune che è proprietario di suoi edifici che ha suoi terreni che per esempio usa come aree verdi ricreative eccetera importantissimo il ruolo dei proprietari dei terreni agricoli sia nella zona di pianura che nella zona di montagna e cercheremo di prendere in considerazione entrambi gli scenari vedendo poi tutta una serie di micro azioni perché poi tutto quello che riguarderà il progetto sarà testare l'efficacia di una serie di azioni che vengono svolti in modo diffuso l'ideale sarebbe che tutte le case come nella prima immagine potessero prendere l'acqua del loro tetto invece che scaricarla direttamente nelle acque bianche che danno il colpo d'arriete al depuratore che arriva immediatamente dentro lo scolo che arriva direttamente in fiume che quell'acqua potesse andare a caricare un bacino di accumulo si potesse infiltrare con un pozzo inverso eccetera eccetera e che così il piazzale che oggi è impermeabile potesse diventare infiltrante che il tetto di un grande edificio come una scuola potesse essere un tetto verde che ha una capacità che anche lui ha una sua capacità di accumulo eccetera eccetera e ovviamente parlando di campi e di boschi che la nostra campagna potesse tornare ad avere quella capacità di invaso di 250-300 metri cubi per ettaro che era tipica di quando c'era tutto il sistema di fossi delle scoline eccetera eccetera e che in molte zone invece è stata persa con le opere anche di trasformazione fondali e così via che i terreni di montagna continuassero a essere sfarciati invece che lasciare che il feltro dell'erba diventi come una specie di tetto di paglia che scarica via l'acqua in tempi brevissimi poi quando crescerà il bosco magari l'infiltrazione migliorerà però intanto l'abbandono accompagna con sé questo tipo di fenomeni e infine andremo e qui abbiamo il consorzio di bonifica alta pianura vicentina che si è a parte del progetto andiamo a vedere cosa poi dentro una volta che ormai tutto quello che potevo fare prima l'ho fatto o non l'ho fatto quando l'acqua arriva all'interno dei corsi d'acqua cosa si può fare all'interno dei corsi d'acqua per appunto poter rallentare espandere contenere comunque una portata ecco quindi vedete come questo è il filo lungo il quale si dipanerà tutto il nostro lavoro di oggi adesso ci saranno tutta una serie di approfondimenti ed è il filo lungo il quale andremo a costruire il progetto che da maggio a settembre andremo a sottoporre alla commissione se poi tutto andrà bene grosso modo con maggio giugno del 2016 se saremmo stati bravi avremo allora ci diranno bravi avete vinto e avremo la possibilità nel 2016 al 2019 di sviluppare un progetto che avrà poi moltissime attività di sensibilizzazione di coinvolgimento cioè non sarà solo una somma di piccole pratiche qualche ricercatore che studierà dei modelli eccetera eccetera ma ci sarà proprio il mettere in gioco e fare in modo che tutti si mettano in gioco a partire e mi fa piacere oggi di essere in una scuola dal mondo della scuola straordinario strumento di sensibilizzazione alle categorie produttive eccetera in sostanza l'idea è questa e lo ve la sintetizzo con una specie di slogan lo slogan è questo il rischio delle alluvioni è sopra ciascuno di noi cioè noi oggi lo sentiamo come un peso ci fa paura piove mamma mia cosa faccio adesso ecco l'idea è quella che cerchiamo di mettere ciascuno di noi sopra il rischio delle alluvioni cioè ci si mettiamo ciascuno di noi fisicamente qui ci sono le scarpe di un po' di noi l'immagine delle persone che ci dovrebbero stare dentro è riflessa dall'acqua come dire che fisicamente intimamente ciascuno di noi c'entra con questo problema e come ha detto mi è piaciuto molto il sindaco di 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 vicentino questo riguarda tanti altri beni comuni cioè l'idea che i cittadini non sono passivi ci pensano stati i problemi che hanno a fare con i beni comuni riguardano ciascuno di noi